bella a tutti ragazzi sono jumpy man e siamo qui su un nuovo episodio bellissimo ragazzi per finire finalmente punizione pazzo vediamo se ci riusciamo oggi allora vai iniziamo stage 7 mamma mia con giga robot allora ho capito lo schema in pratica per segnarvi ecco è questo madonna prima che esplode un modo rega è molto difficile aspetta da basso il volume gol mamma mia sì mi arriva ad un messaggio ok questi l'avevamo già fatti se non avete visto gli scorsi episodi invita a guardarli questi invece non l'avevo fatto alla molto difficile come ci sarà qualche trucchetto no niente ragazzi dobbiamo iniziare molto difficile niente sbagliato niente è molto difficile dicevo ecco questo è lo schema per segnare a giga robot giga robot attenzione attenzione vai sì dai ragazzi abbiamo segnato questo adesso neanche questo abbiamo problemi devo capire come si fa questo sì ho segnato forse ho capito dai ragazzi stage 7 completato andiamo siamo allo stage 8 dai ragazzi dai allora questo già si vede che ci stanno due che stanno camminando e sono invisibili alieni dovrò tirare qui ma che cazzo ma no ma come si va si andiamo oh figo ma che è segna dai andiamo ragazzi dobbiamo concluderlo è impossibile oddio ma che è impossibile questo no vabbè non ci credo eravamo quasi arrivati dai ragazzi allora ci stanno gli annieni magdosi poi vediamo un po tira no per esempio appena si chiudeva tira no devo tirare bene ragazzi perché è molto difficile niente è impossibile ragazzi non so come ho fatto prima a sognare riniziamo ragazzi riniziamo dobbiamo prendercela molto comoda perché è molto difficile fare questo livello allora aspettiamo un attimo perché gli alieni non ne sono molto sicuro niente ho tirato in bocca al io sinceramente non so come si fa come ho fatto prima a sognare forse bisogna passare qui niente ragazzi è letteralmente impossibile cioè non so come si fa come ho fatto non me lo ricordo nemmeno c'è raga e va affancina vai sì dai ragazzi mettete tanti like mi raccomando vediamo un po se si apre quella centrale ma forse ci sarà una sequenza aiuto niente è impossibile ma cosa ho fatto prima un milione di anni dopo rete vabbè questa era facile io non capisco questo come andava fatto ho capito ho capito fermi tutti diamo andiamo no ho sbagliato vabbè ragazzi questa è la fretta attenzione perché non aspettiamo un attimo ragazzi dobbiamo avere pazienza vai segna quasi quasi stavo per tirarla fuori vai no ragazzi è letteralmente impossibile questo lo stage 8 è molto difficile io non so se ce la farò a finirlo tutto oggi questo gioco vediamo un po e niente vaffancina attenti niente è impossibile c'è ragazzi ho capito come come va fatto solamente ci vuole una precisione chirurgica perché dirgli addosso all'altro paletto basta le pubblicità di clash mamma mia vai tiragli ok perfetto allora ragazzi dobbiamo andare a segnare no niente è impossibile è impossibile perché tira sempre lì ora io tiro tutto di là niente niente chi va oggi ti tira lì sempre oggi prova a destra ci sta ostacolando letteralmente l'episodio quella porta forse si allargano niente è impossibile ora proveremo dall'altro lato niente dall'altro lato prendiamo quell'altro è una maledizione ragazzi non ce la faremo mai e invece ce l'abbiamo fatta dai adesso dobbiamo sfruttare dai adesso dobbiamo sfruttare questo spazio di tempo e invece ce l'abbiamo fatta fermi tutti fermi tutti fermi tutti ma come ho fatto abbiamo una possibilità in meno adesso segnato dai 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 adesso viene il pezzo difficile niente dobbiamo aspettare che se ne va con la vespetta vai no ragazzi è letteralmente impossibile io dirò per scherzarlo cioè è impossibile dai dai sì 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 mio dio raga mio dio no 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 non ce la farò mai più guardate eh ok non ce la faccio non ce la farò mai più ragazzi a segnare ecco appunto niente ragazzi se il video di oggi vi è piaciuto come al solito vi invito a lasciare un bel like commentate condividete iscrivetevi io non so quando riuscirò a finire questo schifoso gioco perché veramente sta diventando un assillo non lo so proviamo a fare l'ultimo tentativo e poi ci lasciamo lasciate bel like perché veramente sclero sì 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 dai 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 abbiamo un tentativo ce la dobbiamo prendere comoda ragazzi aspettiamo che ok perfetto adesso è mission impossible non ce la farò mai non ce la farò mai nella vita non ce la farò mai non ce la farò mai cioè raga è letteralmente impossibile bella ragazzi lasciate tanti like commentate condividete iscrivetevi bella